la chiesa di santa maria dell'arzilla sono in pochi a conoscerla e ancor meno sanno dove si trova basta andare nel parcheggio dove una volta sorgeva la colonia chief e sul fondo appare un rudere un mezzo abside avvolto dalla vegetazione ecco quello è ciò che rimane di quella che una volta era la chiesa di madonna amare molto amata dai malatesti che vi venivano sempre in pellegrinaggio e consacrata da papa gregorio iv nel 1834 che di ritorno dalla francia fece tappa a fano tutta quest'area per fano rappresenta un sito di notevole importanza e valenza storica e così seguendo gli studi effettuati dal professor milesi sulla fano romana il centro studi vitruviani va alla ricerca del fanum perduto questa doveva essere proprio l'area dove poteva sorge l'antico fanum il primo famoso tempio della fortuna da cui poi deriva il nome della nostra città in un in un luogo strategico perché la confluenza della prodo da mare e oggi naturalmente è un piccolo torrente questo ma nell'antichità primo secondo sacco avanti cristo questo era un approdo da mare e dove passava la via flaminia la presenza di questo fanum secondo punto gli studiosi avrebbe anche giustificato e favorito la nascita di un luogo molto importante di un santuario molto importante di qui vediamo i rudri alle nostre spalle questa chiesa di santa maria amare che viene consacrata nell'834 e che nel corso dei secoli diventa un punto anche di pellegrinaggio molto importante tra il 1400 e il 1500 è documentato un grande afflusso in questa in quest'area poi nel corso dei secoli questa chiesa viene trasformata nell'800 vengono costruite delle abitazioni qua viene costruito un ulteriore edificio quindi quest'area si è notevolmente trasformata però il prestigio che è documentato nel corso di tutti questi secoli fa proprio pensare come accadeva in genere in situazioni analoghe alla presenza originaria di un luogo sacro antico romano ecco quindi gli studiosi ritengono che qua era il luogo dove poteva solgere l'antico fanum. Professor Clini noi stiamo calpestando in questo momento un'area che da voi è stata scandagliata con una metodica importante innanzitutto capiamo il perché vi siete concentrati proprio in questo pezzo di terreno. Sì come centro studio abbiamo promosso questa ricerca sulla base degli studi di cui parlavamo per capire che cosa c'è effettivamente sottoterra e abbiamo utilizzato le metodiche più moderne in particolare un georadar poi rilievi laser per la chiesetta ma qua in particolare abbiamo usato un georadar questo georadar permette di arrivare con un'emissione di onde elettromagnetiche che riconoscono le stratigrafie ipogee permette di arrivare fino a circa 3-4 metri quindi uno studio che ha una doppia finalità intanto effettivamente di capire che cosa c'è qua sotto ma sogno sarebbe quello di arrivare a una profondità tale che ci possa permettere di andare a individuare delle strutture antiche perché è possibile anzi probabile che se qui vi era costruito vi era l'antico tempio chiaramente gli edifici che vengono ricostruiti a fine mille dalla chiesa agli altri edifici potessero sorgere sulle basi sulle fondamenta di questo tempio